Le novità sono tantissime, a cominciare dai camerini, nuovi inviati ci saranno e intanto l'altra notizia è che a condurre Striscia la Notizia quest'anno con te ci sarà il sottoscritto Nino Frassi. Aiutatela, aiutatela, aiutatela che si sente male, non ti sente male? No. Non si fieni? No. Striscia la Notizia, un programma di Antonio Ricci, da lunedì 23 settembre, Canale 5. Lo sveglimentino? Grazie, grazie. Sei gentile, ci troveremo bene.